Dottor Fassino Mi dica, lei perché è qui oggi? Innanzitutto è un onore per me essere qua oggi con voi, sono qui perché c'è la mia nipotina Sara da Nettuno e perché credo sia una bellissima manifestazione. So che è la tappa finale di un percorso, di una competizione che è andata avanti in queste settimane in tanti comuni del Lazio, un modo molto intelligente, molto efficace per imparare noi, per insegnare a bambini regole sulla sicurezza, sulla sicurezza stradale e quindi credo che sia il modo giusto per fare tutti un passo avanti. Sapevo di trovare una bella atmosfera ma ho visto un livello di eccitazione davvero sorprendente, tanta energia positiva ed è veramente una bella cosa. Vi do il benvenuto alla mitica finale regionale del contest della sicurezza 2014! Il contest della sicurezza 2014 è ufficialmente aperto! Grazie a tutti! Adesso decreteremo i campioni regionali Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!